sono qui per parlare di libri fotografici per analizzare dei libri fotografici e convincerti dell'importanza per un fotografo che voglia essere degno di questo nome di avere nella propria libreria alcuni libri almeno quelli fondamentali diciamo così. Il primo libro di cui voglio parlarti è Codacrom di Luigi Ghirri. Innanzitutto Luigi Ghirri non ha pensato solo a se stesso, alla propria carriera, ma si è unito ad altri fotografi che condividevano lo stesso sguardo, lo stesso approccio alla fotografia per creare quella che viene normalmente definita la nuova scuola italiana di fotografia di paesaggio anche se non esiste realmente come scuola ufficiale diciamo così. È diciamo però un insieme di amici, di persone che si stimano reciprocamente e che si sono messi insieme appunto per realizzare in particolare un progetto Viaggio in Italia che è stata una mostra e anche un libro. Nel 1984 si tenne appunto alla prima esposizione delle foto di questi autori. Era un gruppo che comprendeva insomma nomi come Iodice, Guido Guidi, Vittore Fossati eccetera eccetera. Insomma i nomi importanti diciamo così o che lo saranno proprio grazie a queste iniziative della fotografia dei luoghi, se non vogliamo chiamarla proprio di paesaggio, insomma la fotografia di interpretazione di racconto dei luoghi. Ghirri appunto è stato un po' quello che è riuscito a coordinare tutto questo movimento. Quindi è stato molto molto importante perché ha diffuso in Italia un genere di fotografia, quella di paesaggio chiamiamolo impegnato, che non esisteva. Noi in Italia avevamo diciamo così la scuola degli alinari, insomma con queste foto grandiose di monumenti, di scorci di città, paesini, insomma le bellezze d'Italia. Ispirandosi invece agli autori soprattutto americani come Walker Evans e in particolare alla scuola che viene definita dei New Topographics, cioè Robert Adams, Stephen Shore eccetera. Ghirri capisce che nel raccontare i luoghi non ci si può limitare alla bellezza, come dire, un po' retorica, un po' romantica che era stata utilizzata fino ad allora, ma occorre anche mostrare come il paesaggio sta cambiando, cioè come una nuova topografia si sta imponendo proprio tra l'altro in quel periodo in maniera abbastanza forte, abbastanza invadente. Quindi esattamente come in America i New Topographic rompono con la tradizione, all'Ansel Adams, all'Weston eccetera, per mostrare le villette a schiera, le nuove autostrade, insomma l'alterazione creata dall'uomo di questo paesaggio. Così Ghirri e compagni creano appunto un nuovo modo di raccontare questo paesaggio. Il libro che diede, come dire, più lustro e fece conoscere Ghirri è per l'appunto Kodachrome. Ghirri pubblica le sue foto piccole, se vogliamo, cioè in modo tale che praticamente siano completamente intere, con molto spazio bianco intorno per dare aria alle immagini stesse, appuntato molto a quella che potremmo definire l'usabilità del libro. Quindi in questo modo lo spettatore può godersi le fotografie senza particolari intralci e avendo appunto tanta luce intorno. Il suo sguardo è estremamente moderno. La cosa che salta agli occhi è che queste foto tranquillamente potrebbero essere state realizzate qualche giorno fa con uno smartphone, ad esempio. In realtà Ghirri era tutt'altro che quel genere di fotografo che va in giro un po' a caso. Faceva le sue passeggiate ma aveva uno sguardo molto attento e spesso poi, soprattutto successivamente, abbandonò il piccolo formato in favore addirittura del medio formato. Quindi in realtà lui realizzava le sue foto in una maniera che appariva spontanea, però lavorandoci su con molta attenzione. Questo si nota perché le foto possono sembrare, come dire, normali, quasi banali. Qui vediamo un campo di calcio con la porta, qui vediamo un campo di basket. Tra l'altro appunto c'è tutto il lavoro di editing nell'accoppiare le foto, nell'organizzare tutta la serie in un certo modo. Proprio per la sua mentalità, anche da grafico, introduce la possibilità di organizzare le foto in una maniera molto più particolare, da un lato più libera, ma dall'altra anche più efficace, secondo la lezione di Eggleston, che era un altro autore che Ghirri amava moltissimo. Concludo ricordando che il libro, dopo la ripubblicazione del 2012, ha avuto molte ristampe. Questa qui che ho io in mano adesso è la quinta del 2019. Quindi il libro è attualmente disponibile, anche questa pubblicata sempre da Mac Books, e quindi sicuramente è una spesa, tra l'altro non troppo impegnativa, che vale la pena di fare. Alla prossima!